Edizione numero zero per il Blues Mob questo venerdì 9 settembre a Brugnato, ma di che cosa si tratta? Ma è un'operazione ambiziosa che stiamo cercando di portare a termine, dove trasformeremo per il 9 di settembre Brugnato nella capitale del blues italiano. Per un giorno ci saranno più di 50 musicisti che suoneranno, ci saranno già nel pomeriggio a partire dalle ore 19 una serie di gruppi che inizieranno a creare il sound e il groove del blues e poi dalle 21 nella piazza Brusini, la piazza principale, si alterneranno tre gruppi, il gruppo Sindacato del Moio di Gas e Arpo che sono il gruppo più importante di blues che lavorano nella nostra provincia, il gruppo Blue Freak che è un gruppo che ha al programma sia blues che jazz che funky con quattro fiati nel quale suonerò anch'io e poi chiuderà la serata a Nick Beccatini che farà un'ora di spettacolo e poi da lì partirà una jam session fino a luna di notte. Dalle 18.30 fino a tarda sera il Borgo di Brugnato si trasformerà appunto in un grande palcoscenico musicale. Perché avete pensato a questa manifestazione e quale sarà poi il programma? Brugnato ha dimostrato quest'anno di avere la vocazione per essere il salotto sicuramente della Valdivara ma probabilmente potrebbe anche avere una connotazione geografica più ampia. È una location perfetta per questo tipo di attività qua. Le tre piazze che saranno piazza del De Brando, piazza Brusini e piazza della Madonna vedranno questi musicisti sì suonare e suonare a livelli alti ma in un contesto che è veramente da pelle d'oca. Noi abbiamo fatto delle prove anche in questi giorni improvvisando e gli sguardi dei turisti che arrivavano e vedevano questa situazione è come se i musicisti fossero sempre stati lì, come se fossero, facessero parte come le pietre del paese stesso. Quindi questa è una vocazione alla quale ci crediamo, può connotare Brugnato turisticamente con un appuntamento fisso nel tempo e la nostra idea è quella proprio Blues Mob perché vorremmo che passasse il messaggio che chiunque in Italia, in Europa vuole venire a suonare in questi giorni a Brugnato lo può fare, previa ovviamente una piccola presentazione che noi poi valeremo e gli daremo un ok e può venire a suonare in questi giorni. Tra l'altro il centro storico sarà appunto protagonista anche con tutte le attività che proporranno le specialità del luogo. Sicuramente musica e gastronomia sono due situazioni già vincenti di per loro ma la gastronomia della Valdivara non ha bisogno di presentazioni, alcune attività locali già si stanno adoperando per pensare come accogliere i turisti con delle cose mirate e dedicate all'evento e siamo sicuri di poter accogliere bene, 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 tutti i colori che vorranno passare qualche ora con noi con della buona musica. I said, if you like the blues, yeah, ready?